Si è svolta sabato a Nuoro, nell'aula magna dell'Istituto Tecnico Commerciale Gian Pietro Chironi di Via Toscana, la cerimonia di premiazione degli studenti che si sono distinte nell'anno scolastico 2013-2014. I ragazzi, accompagnati dai genitori, hanno ricevuto dalla dirigente Francesca Donata Mereu un attestato e un assegno. Sono stati una quarantina ai ragazzi e alle ragazze che si sono meritati il riconoscimento per l'impegno profuso sui banchi di scuola. Un momento di gioia per gli studenti e i genitori, ma anche per l'Istituto che conferma l'eccellenza dei suoi corsi di studi. Nei prossimi giorni, il 30 gennaio, il 4 e il 6 febbraio, dalle 15.30 alle 20, l'Istituto aprirà le proprie porte per presentare agli studenti e ai genitori delle terze classi delle scuole medie cittadine e del circondario il POF, il piano dell'offerta formativa dell'ITC Chironi. Il prossimo anno scolastico saranno tre corsi attivi, l'indirizzo, amministrazione, finanze e marketing, logistica e trasporti, l'aeronautico e il management del benessere e sport. In questi anni l'Istituto Onorese si è distinto per l'attualità dell'offerta formativa che intende dare ai ragazzi non solo una preparazione professionale che gli consenta di entrare quando possibile immediatamente nel mondo del lavoro, ma anche di proseguire proficuamente gli studi universitari.